Per noi l'appuntamento di oggi è di grande interesse, il tema del successo formativo dei territori legato ai temi della sostenibilità è una scommessa a cui vogliamo partecipare portando le nostre competenze e cercando soprattutto di lavorare affinché questi temi diventino patrimonio diffuso su tutto l'insieme del territorio, dalle aree marginali fino ovviamente ai grandi centri urbani. Vogliamo provare a dare il nostro contributo assieme ovviamente alla città metropolitana e a tutti gli altri soggetti che saranno coinvolti.